Mi chiamo Vincenzo Patruno, sono uno specialista IT, mi occupo per Istat di Open Data. All'interno del Data Lab che si terrà a Smart City Exhibition, il primo giorno coordinerò la giornata dedicata ai censimenti che abbiamo chiamato Open Census. Ci sarà una mattinata dedicata alla descrizione di scenari riguardanti i dati e l'utilizzo dei dati del censimento dell'industria dei servizi svolto da Istat. Nel pomeriggio invece ci dedicheremo alla visualizzazione dei dati del censimento, guardando un po' il funzionamento di tools e facendo tutorials sull'utilizzo di questi tools. I censimenti sono un momento importante per il nostro paese in cui si capisce effettivamente dove sta andando in un determinato settore. Gli ultimi censimenti che l'Istat ha messo in campo sono stati quelli sull'industria e sui servizi. Tutti i dati del censimento verranno rilasciati come Open Data, quindi un patrimonio informativo importante per tutti gli stakeholders e per tutti gli utilizzatori di questi dati. Oltre a tutto quello che abbiamo detto ci andrei perché c'è un momento che abbiamo chiamato Data Gem Session, cioè un momento in cui è possibile per chiunque andare a raccontare qualcosa sui dati semplicemente preparando qualche slide da proiettare all'interno del pomeriggio per un massimo di 5 minuti. Vi aspetto, ci vediamo tutti a Smart City Exhibition nella giornata dedicata all'Open Census, abbiamo molte cose da dirci e sicuramente possiamo avere anche l'opportunità di conoscerci di persona.